Troppi gli oggetti in discussione per la giornata di oggi, ma è chiara la volontà di arrivare al registro delle coppie di fatto, aprendo a consigli, suggerimenti, pareri, i lavori dell'apposita commissione. Oggi si acquisisce come bozza di regolamento quello approvato a crema e la proposta del PD, come ci spiega il consigliere Lipara, è quella di snellire il più possibile il processo, aprendolo al confronto attraverso la pubblicazione del regolamento sul sito del Comune per un periodo determinato, per dare la possibilità a chi vuole, previa registrazione, di esprimere pareri, suggerimenti e osservazioni. Seguirà la valutazione delle osservazioni pervenute per arrivare verosimilmente a fine marzo all'approvazione definitiva. Ma è una realtà, quindi bisogna comunque accettarla. Magari. Credo che sia utile. Se serve per dare qualche diritto a chi ha fatto una scelta diversa, perché no? Ma se a loro va bene, va bene anche a me. Non ci sono più i valori di una volta, direi, e quindi non saprei neanche io cosa dire, però io penso che sia giusto le copie di fatto vedano i loro diritti. Il Movimento 5 Stelle auspica che il processo sia agile dopo aver visto respinto il capitolo sulla trascrizione dei matrimoni omosessuali. Il nostro sindaco, Galimberti, ha scritto esplicitamente che lui è contrario ai matrimoni di persone dello stesso sesso. E quindi mi domando, quando noi inizieremo a lavorare su una questione che riguarda i registri dell'Unione Civili, quindi delle coppie di fatto, qui a Cremona, mi domando che cosa porterà sotto il braccio la maggioranza in commissione. Cioè, vale a dire, il programma elettorale nel quale si promuovevano i diritti civili a Cremona, oppure l'ennesima circolare del Movimento Voglio la Mamma, che ha quindi anche condizionato le votazioni durante il Consiglio Comunale, che è avvenuto il 9 di dicembre, che riguardava proprio la mozione che avevo presentato. Il registro implicherà la modifica di una serie di regolamenti comunali che dovranno essere aggiornati dai servizi cimiteriali al calcolo dell'ISE, riconoscendo diritti e doveri delle coppie di fatto. Molte cose cambieranno, per esempio, nell'accesso ai servizi, a vantaggio della coppia, ma anche del Comune. Il registro dell'Unione Civili è semplicemente un'opportunità che viene data in più ai cittadini che richiedono un servizio, un servizio che il Comune ovviamente gli deve poter fornire.